Spring World Cup, 18-1 Sterleford, categoria unica, grazie a chi è venuto a giocare nonostante le previsioni in merito ha preso l'acqua iniziamo con l'assignazione del premio della gara scorsa del Valdino 4-14 che ha Fabio Rosso come secondo netto bravo Fabio, molto bene grazie, grazie continuando con la gara di oggi, secondo netto Valerio Pacini con 32 punti bravo Valerio, ora lo diamo troppo tardi primo netto Renato Bruciani con 36 punti arriva, 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 arriva aspetta, arriva Renato, perfetto, vai vai, te lo bevi ora a tavola primo lordo con 19 punti Gianluigi Cori Savetti bravo, bravo Gianluigi bravo vai grazie